Scommettono sull'Unione due dei principali partiti d'opposizione russi, travolti dall'uccisione lo scorso febbraio di uno dei maggiori leader anti-Putin, Boris Nemtsov, le due formazioni hanno deciso di allearsi in vista delle regionali di quest'anno e delle legislative del 2016. Il partito repubblicano di Russia di Mikhail Kasanov, di cui era co-presidente anche l'oppositore Boris Nemtsov e il partito del progresso di Alexei Navalny, puntano a far fronte comune contro lo strapotere del Cremlino. Davani, attivista e blogger, sostiene che almeno il 25% dei russi condivide le idee dell'opposizione, ma il consenso crescerebbe, e di molto, se fossero garantite elezioni trasparenti.